Sì, noi come abbiamo detto nella ultima manifestazione, da una prima fase di candidati nostri nelle liste del Partito Democratico, tentiamo di essere presenti con una nostra lista alle elezioni regionali, con tutte le difficoltà del caso rispetto all'individuazione dei candidati presidenti, delle forze in campo e così via, ma noi abbiamo un'alleanza strategica con il Partito Democratico di Zingaretti, per cui saremo a fianco delle liste che saranno le liste che insieme al Partito Democratico formeranno la coalizione. Stiamo avendo molte adesioni e molte richieste di candidatura e immediatamente dopo la manifestazione che facemmo con Paolo Ciani e con Mario Giro siamo stati contattati da decine e decine di cittadini che vogliono dare il loro contributo, quindi evidentemente si avvertiva la necessità di avere una forza politica fuori degli schemi, una forza che fa della solidarietà nel campo del centro-sinistra, io non ne vedrei altri, fa della solidarietà il valore portante dell'impegno sociale e quindi anche dell'impegno politico. Penso che la nostra lista sarà una lista guidata da un cappello di lista in cui ci saranno quelli che hanno già contribuito a mantenere alto il nome di democrazia solidale nelle passate elezioni, penso a quelle europee, penso alla disponibilità che abbiamo acquisito sul campo di Roberta Caetra, assessore per 8 anni al Comune di Napoli, penso ad un cappello di lista che guidi questa lista formato da una donna, da una persona autorevole, un cattedratico e formato da un giovanissimo, vorrei dare un'idea di novità anche nella costruzione fisica delle candidature. Da ultimo siamo stati fra i primi ad appoggiare la candidatura di Sandro Ruotolo perché l'abbiamo considerata congrua ed in grado di dare una mano al centro-sinistra qui in Campania ma soprattutto qui a Napoli visto che l'anno prossimo voteremo anche per la città di Napoli.